Sabato 28 ottobre, buongiorno amiche, buongiorno amici bianconeri, è il match day di Juventus Verona qui per la probabile formazione e poi anche alcune informazioni così per fare quadrato tutto tondo prima di sviluppare il tutto però mi raccomando iscrivetevi al mio canale youtube, bastionate la campagna notifica e mettete un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata, sperando che questa sia di vostro gradimento vi chiedo anche un feedback perché questo è il primo contenuto che realizzo con un nuovo attrezzo tecnologico trattasi sempre di uno smartphone ma la sensazione era che i precedenti fossero scaduti un pochino di qualità visiva l'auspicio è che mi diate dei feedback positivi che ovviamente devono essere rispondenti al vero e non per farmi contento sulla qualità dell'immagine che spero possa essere decisamente migliore ma ovviamente mi rimetto al vostro giudizio allora, probabile formazione di Juventus Verona pochi i ballottaggi per la verità Kostic cambiaso con Kostic favorito Ken con Chiesa con Ken favorita per avere Chiesa disponibilità possibile partenza dalla panchina quindi avere poi la possibilità di spaccare la partita con il suo ingresso qualora ce ne fosse bisogno l'auspicio ovviamente è che questo non debba servire perché come ho avuto modo di esprimermi anche poc'anzi ospite a Radio Bianconera dall'ottimo giornalista nonché amico Dario Ghiringhelli partita difficile non tanto per la qualità delle squadre perché da quel punto di vista lì sarebbe abbastanza retorico metterla come partita difficile nonostante ogni partita sia difficile nonostante anche la diversità di valori difficile perché la penso esattamente come Massimiliano Allegri ha espresso in conferenza stampa queste sono le partite che possono nascondere delle insidie vieni da una grande vittoria contro il Milan non sei ancora quella grande squadra che tutti auspichiamo la Juve possa tornare ad essere una squadra che vive di up and down Bologna insegna altre partite come Lecce nonostante la vittoria insegnano e quindi il pericolo è che dopo una partita entusiasmante per il risultato fatto in casa di una diretta concorrente di una squadra che in quel momento era comunque favorita si possa incorrere in una sfida al di sotto delle proprie potenzialità con un inizio magari sbagliato a livello di approccio e poi sappiamo quanto questo si possa complicare la restante parte del match perché sono quelle partite che se non sei una grande squadra se le incanali male poi non hai quei giocatori magari che possano sterzartela forse anche in virtù di questo Allegri si premunisce e un'ottima arma dalla panchina la vuole conservare e Chiesa può essere considerato l'ultimo periodo di Chiesa con lo stop avuto i problemi muscolari accusati ma può essere davvero la soluzione giusta ovviamente quello che diciamo che conterà maggiormente è l'approccio ma c'è una bellissima notizia perché per l'ennesima volta nel recentissimo periodo la Juve disporrà del supporto del suo dodicesimo uomo quel dodicesimo uomo che è fondamentale proprio in sfide come queste per darti quello sforzo in più quella carica in più quella motivazione in più che può consentire alla Juve appunto di incanalare una partita che potrebbe diventare difficile per come detto prima le motivazioni ma anche per il fatto che il Verona fondamentalmente non ha nulla da perdere perché si sa a Torino puoi essere vittima sacrificale a Torino si può perdere non ci sarebbe nulla di drammatico per una squadra che lotta per la salvezza e quindi verrà Torino molto probabilmente a giocarsela tranquilla serena del fatto che un'eventuale sconfitta potrebbe rientrare nell'ordine delle cose ma con questa serenità con questa libertà magari potrebbe mettere in difficoltà invece una Juve che ha l'obbligo tassativo assoluto insindaccabile di fare tre punti questa sera e di rivedere dopo oltre tre anni parliamo di tre anni e due mesi la vetta della classifica perché l'ultima volta accadde nell'agosto del 2020 la Juve da allora non è più stata in testa la classifica è chiaro parliamo di poche ore perché poi le altre dovranno giocare ma intanto è un ulteriore step in caso di vittoria che servirebbe per l'accrescimento dell'autostima per far sì che questo gruppo che in tanti da mio punto di vista prematuramente e avventatamente avevano giudicato da sesto settimo posto invece io penso che questa sia una squadra che poi a gennaio sarà ulteriormente puntellata possa assolutamente dire la sua in questo campionato tutto il resto ci penseremo poi l'anno prossimo perché sarà fondamentale andarsi a prendere uno delle prime quattro piastre che ti garantirà la partecipazione alla prossima Champions League e poi se non ricordo male anche a qualcosa di più approfondiremo questo discorso per tempo che cos'altro a commentare? beh abbiamo annunciato ieri l'addio la perita importante di Matteo Tognossi la Juve perde un pezzo da 90 un dirigente che qualche d'uno si è anche azzardato a mettere in discussione chi sarebbero questi fenomeni che Tognossi avrebbe portato a Torino beh credo che non meriti nemmeno risposta tutto questo perché io credo che sia sotto gli occhi di chi di calcio ha voglia di capire come la Juve a livello di settore giovanile abbia lavorato abbondantemente bene e sia insindacabile l'operato fatto da Manna e Tognossi in tal senso con una Juve che si sta garantendo tra giocatori che potranno essere il futuro della Juve e giocatori che potranno garantire anche da un punto di vista economico il futuro della Juve un qualcosa di importante da questo punto di vista Juve lungimirante che se ne dica prima squadra l'avere fatto la seconda squadra adesso piano piano stanno arrivando le altre ci sta pensando il Milan ci sta pensando l'Inter anche se Marotta ha detto che ancora l'Inter non è in grado non ha una struttura per poter gestire la seconda squadra ma è una cosa che andrà fatta quindi questo fa capire come la Juve da questo punto di vista sia ancora all'avanguardia Juve che dovrà pensare di sostituire Tognossi e credo che i nomi seppur con ruoli differenti possano essere due e siano dei fidi scudieri di Cristiano Giuntoli uno è Giuseppe Pompiglio il cui contratto con il Napoli scadrà a giugno 2024 e credo che se non ci saranno cataclismi 99% possa essere sicuramente un ingresso inorganico alla Juve quello di Giuseppe Pompiglio l'altro è quello di Maurizio Micheli attenzione anche al suo nome perché mi viene dato come figura molto diciamo attenzionata da parte di Giuntoli e ovviamente della Juventus e quindi una Juve che oggi dovrà fare massima attenzione a non inciampare a non commettere passi falsi mezzi passi falsi scivoloni perché servirà oltretutto oltre i tre punti anche una partita io credo convincente sia legittima auspicarci una partita convincente quantomeno per approccio poi la qualità del gioco il modo in cui la Juve giocherà è sempre opinabile però ci vuole una Juve determinata una Juve che non rischi non lascia non lascia spazio agli entusiasmi facili che può diciamo inanellare il Verona giocando aggressivo contro la Juve a Torino e una Juve che attraverso Cristiano Giuntoli e la dirigenza sta pensando al futuro dopo aver perso un pezzo da 90 come Matteo Tognozzi per rinforzare l'organico che in questo momento fino a fine campionato non verrà rinforzato quindi la figura di Tognozzi non sarà sostituita ma la Juve è già proiettata nel futuro sia per quanto riguarda i giocatori che stanno emergendo dalla Next Gen sia per quanto riguarda anche il potenziamento della struttura organizzativa ditemi la vostra ci sentiamo questa sera dopo Juventus e Verona come sempre in bocca al lupo fino alla fine Forza Juve ciao